Qual'è il colmo per un professore di musica? Mettere una nota a un alunno. Qual'è il colmo per un professore di geometria? Non digerire i rombi. Qual'è il colmo per una gallina? Covare un ovino. Qual'è il colmo per una magliaia? Ingolfare il motore. Qual'è il colmo per una tartaruga miope? Sposare un elmetto tedesco. Qual'è il colmo per un picchio? Non sopportare i battimenti. Qual'è il colmo per un libraio? Non riuscire mai ad alzare il volume. Qual'è il colmo per un idraulico? Avere il naso che gozzola. Qual'è il colmo per un calciatore? Mettersi le ciabatte quando gioca in casa. Qual'è il colmo per un palloncino? Scoppiare in lacrime.